Volevo presentarvi il clou della serata che aspetta a me. Signore e signori, abbiamo con noi un ospite di eccezione, abbiamo avuto Dionne Warich, e c'è stato gli status quo, eccetera, eccetera, ma siamo riusciti per la prima volta in Italia a portare un ospite straordinario a Sanremo, un po' restio, non si fa trovare, eccetera. Per Sanremo è voluto venire, era in incognita, è venuto stato qua in incognita, non si è fatto trovare, ma l'abbiamo questa sera insieme a noi per la prima volta quasi nel mondo, perché è molto restio, è venuto per un'occasione particolare, un ospite d'onore straordinario. Signore e signori, abbiamo stasera con noi Giulio Cappelli! Giulio, Giulio, Giulio Cappelli! Giulio Cappelli! Grazie! Bene! Come va? So che è molto difficile averti come ospite dappertutto, vorrei sapere un po' come mai sei così restio. Ma io ho molto da fare con il mio lavoro, brucia... No, c'ho da fare, ma però tu mi hai invitato l'insistenza di pubblico, ma sono venuto, ma ti vedo in un ambientino bellissimo. Senti, volevo dirti, ma i tuoi programmi futuri? Come programmi futuri? Le solite cose, senza altri passi, va avanti, si lavora, tu... Accidenti! Sì, insomma, sono contento di essere venuto qui a Sanremo perché tutta la gente è così gentile, i ristoranti sono buoni... Ho capito, grazie! L'albergo gli è pulito, devo dire... Grazie, grazie, ovvia, grazie, ho capito. No, volevo prima di andare via ringraziare tutti il pubblico, qui presente, l'autorità, Dio male... Dici bene, Ange, una bella voce, grazie, bravo. Vorrei, scusa, vorrei ringraziare i... salutare, non so come si fa, salutare tutti e ringraziavi l'accoglienza, spero di tornare l'anno prossimo. Grazie, va bene, ovvio, ciao. Mi sono trovato proprio bene, vorrei... Sì, sì. Sono contento proprio. Va bene, grazie. Ovvio, allora grazie, ti ringrazio di essere venuto, saluta il pubblico e grazie di aver fatto l'ospito di noi quella... Buonasera, grazie. Prego. Arrivederci. Ciao. Ci vedo dopo un tizzerino. Grazie, Cappelli, ci vediamo qui. Ciao. Giulio Cappelli! No, no, vai, vai, no, dicevo per l'andato... Giulio Cappelli. Cappelli! Come chi è Cappelli? È colmo, ma guarda... Chi è Giulio Cappelli? È colmo. Grazie, Giulio. Speriamo di riaverlo come ospite a qualche altra manifestazione, è molto ristio, non ha quasi mai fatto l'ospito d'onore, quindi è una cosa nuova e volevo dire che si è rimasto anche un po' male, è un mestiere nuovo per lui. Allora, grazie Giulio, vai bene, lo puoi fare, se ti invitano a qualche altra parte, vai. Dovrebbe essere andata bene, sono mestieri difficili, però... E adesso abbiamo dieci, uno di noi, e passo la linea... Olimpia! Olimpia! Allora, adesso dobbiamo concludere praticamente questo festival, non è che si conclude parzialmente, perché infatti poi ci dobbiamo ricollegare. Le giurie stanno votando, hanno già votato, non lo so, comunque abbiamo concluso anche questa seconda parte dedicata agli ospiti internazionali, che si è conclusa con Giulio Cappelli, che speriamo di riavere un'altra volta qui con noi, e rimandiamo l'appuntamento a Dopo il telegiornale. Sempre appuntamento sulla Rete 1 TV, salutiamo il pubblico dell'Eurovisione e anche appuntamento con Radio 1. Ciao, a dopo! Grazie!